E' arrivata la nomina di Minopoli alla Mostra d'Oltremale, che personalità è Sindaco e che guida sarà per la Mostra? Io sono molto contento di questa coppia che guiderà il Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l'indicazione del Comune di Napoli, che sono Valeria De Sieno, che già fa parte della Mostra d'Oltremale, e Remo Minopoli. E' una scelta che va in direzione di una maggiore connessione della Mostra col territorio. Fortemente è voluto questa scelta perché si tratta di una persona che è in grado maggiormente di aprire al territorio quel luogo, che ha una potenzialità enorme, a farne diventare una meta culturale, turistica, di intrattenimento importante, che adesso è fuori dal momento così forte anche di boom di viaggiatori che vive la nostra città. Sono due persone giovani, con grande competenza, diverse, con grande entusiasmo, con un programma molto forte. Abbiamo un anno e mezzo davanti, la Mostra ha una potenzialità enorme, noi li sosterremo. E credo che faremo cose davvero importanti già da subito. E quindi si conferma un po' la scelta che ho fatto anche con l'ultimo cambio in giunta. C'è una forte carica di ossigeno, di vitalità di giovani. Questo sarà il modo con cui caratterizzerò molto la parte successiva finale di questo mandato. Ho bisogno di gente che corre, che si sa connettere col territorio, che è audace, lancia il cuore oltre l'ostacolo e non si ferma davanti all'ostacolo. Quindi c'è bisogno di questo tipo di energie e sono contento perché alla Mostra si è fatto un buon lavoro, ma si deve fare molto di più.